Salve gente, benvenuti in questo nuovo video, io sono Fibronleashed e sono tornato. Dopo non so quante mesi di assenza, ci sono peli sulla mia scrivania, non so di che animali siano. Io raccolgo un po' di dibacchi, intanto che voi vi mettete un po' comodi, vi rilassate, mettete il video a palla sullo stereo di casa vostra, ci sta? Ah, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io faccio anche finta di essere bello rilassato ma sono le 10 di sera e 7 minuti, ho appena finito di preparare l'episodio visto che era molto tempo che non giocavo e non registravo e diciamo che c'era un po' la casa da mettere a posto sia nella vita reale che su Minecraft, la scuola nella vita reale e tanti impegni e cose così. Sono appena tornato da un mining anche, cioè in realtà no, sono tornato prima da un mining, poi ho messo a posto la casa, cioè ho fatto tutti e due contemporaneamente perché io sono un mago e ho trovato un sacco, un sacco, un sacco di minerali che ho messo nel pulvraiza, che li metterà nella redstone furnace e furnace e farà tantissimi materiali interessanti. I barrel sono ancora messi qua a cazzo, non so veramente come disporli, anzi penso di non fare dei barrel oppure sì, non lo so. Ci sono gli storage drawer, ma certo che ci sono gli storage drawer. Parlando di storage, no non c'entro un cazzo però, parlando di storage, volevo cominciare un attimo a fare i pannelli solari, uno, me li metto qua così mi ricordo, ma prima di tutto volevo cominciare a fare, siccome anzi sono due cose che vanno di peripasso, il pannello solare ci darà energia per portare avanti il nostro builder, sì, l'ho fatto, ho ucciso due enderman di cui uno mi ha anche droppato la testa, erano due nello stesso cubo, cioè non ho più il video perché sto registrando, poi l'audio si era sfanquolizzato, non è una scusa giuro, cioè, ma bando alle ciance, allora, prima mettemmi in ordine qui, visto che ho un sacco di roba, ma veramente un sacco, anche la glowstone, ho un barrel della glowstone, ma no che non c'ho un barrel della glowstone, fantastico, e allora, mettiamo l'oro, diamo l'oro all'oro, non è oro, non sei oro, non ho il barrel dell'oro, sono una persona orribile, sì, io ero fermato, mi ero fermato appunto, ho stato io, sono un assassino, mi ero interrotto, ecco, nel fare il builder, perché, ma c'ho il blocco dei lapis, oh sì, almeno quello, perché il builder ha bisogno, a parte che si fa facilissimo bastano underpearl, però servono le card mining, queste qua, per fare sì che scavi, effettivamente, e serviva un piccone di diamante e una shovel, una pala, ecco, di diamante, sono in tutto quattro diamanti complessivamente, questa shape card mi sa che l'ho fatta, servono due brick, dei fogli, delle cose, io i fogli ce li avevo, perché avevo fatto la farm di fogli, può essere, oddio, dov'è, io non la vedo, comunque serve, redstone, anche un pezzo di iron, quindi uno di iron, i due pezzi di clay, ottimo direi, questa è una cheat, molto, molto, molto necessaria, qua ho già finito la corrente, ma no, ma perché, ah, perché c'è il nickel, ah, ho capito, facciamo così, ok, arancione, così il nickel va qua dentro, e, sì, ho fatto un sistemino qua, un po' stupido, visto che non ci ho sbatto di metterli vicino, anche perché non ho cavi, e devo mettere tutti i macchinari vicino al generatore di corrente, con quello, quello, quello sgravo, scrauso, con il coal, due di brick, e qui abbiamo più o meno tutto, ci manca solo la, la carta, carta che io pensavo di avere, ma in realtà non ho, e giuro che mi ricordavo di aver fatto una, una farm, o comunque di aver trovato le, le super canes, ma ero sicurissimo, e io, se non le ho messe qua, non le ho trovate, quindi sono stupido, vado lì verso il, il, come si chiama, quel piccolo isolotto di, di sabbia, che là, di sicuro ci sono le sugar canes, sono anche andato nel nether, e, intanto che voi non c'eravate, e, perché mi serviva il quarzo, per cominciare l'actual edition, visto che, eccole là le sugar canes, ma ci sono otto mostri in mezzo, visto che servono, il quarzo, i pezzi di quarzo servono, perché? Perché c'è il, 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 il black quartz, ed è una cosa, non morirmi, grazie mille, il black quartz, praticamente, era un minerale che si trovava di, eh, default, in giro per il mondo, tipo il coal, ok? Trovi l'or, e fai le cose belle, invece, qui, in questo pack, non si trova in giro, ma lo, si crafta, facendo il coal, e il, come si chiama, il quarzo, quello classico del nether, quello che tutti conosciamo e amiamo, ecco, forse amiamo o no, però, qua è il quarzo lì, uh, io mi mangio anche un po' le mie bacche molto, molto buone, Questa è una raspberry, e questa è una blueberry, e quello non è un creeper, e non ho spade, quindi, non lo so, penso di fare una manovra evasiva, se mi permetti di farla, ok, non mi distruggere casa, bravissimo, perfetto, ma tanto vado a dormire e mi segue quel figlio di puttana, Allora, la carta, la carta si fa con la carta, ovviamente, però ne servono quattro, che due coglioni, allora, vediamo se ne è cresciuta una, da quelle, no, non è vero un cazzo, e quindi ci attacchiamo, cioè io mi attacco e tiro forte, anche perché non posso magicamente farle comparire, non sono un cittone, mi mangio, mi mangio un pomodoro, nell'attesa, no, ho già fame, vabbè, cosa posso fare con i pomodori, posso fare la pizza, Ditemi che posso fare la pizza, oddio, sì, posso fare la pizza, sì, dell'action edition, allora, la pizza col pesce, ok, la pizza con le carote, e vabbè, i funghi sì, la farina sì, oddio, c'è anche la supreme pizza, ci sta, ci sta, pizza pepperoni, oddio, la pizza col pesce, con, com'è così, le carote, io non l'ho ancora visto, già che ci sono, vedo se posso fare la Groot, I am Groot, piccolo riferimento ai guardiani della galassia, tra l'altro bel film, adoro, cioè, ho visto il 2, ed è un bellissimo film, veramente, ve lo consiglio e fa spaccare da ridere, e ci sta un tot, allora, posso fare il Groot, è ancora poco di Groot, sì, sì, è ancora poco, è poco ragazzi, non basta mai il Groot, ma veramente, non vuoi fare le fornaci alte 8.000 metri, però ti manca il Groot, e le sugar case non sono ancora cresciute, mannaggia il Cristo, e niente, e dai, 5 di Sarah Brick, intanto facciamo tipo le cose essenziali, tipo questo, ok, e basta, non possiamo fare un cazzo di altro, e la carta appena, appena riusciamo a farla, poi ne basta uno, perché tanto ne ha 4, ne prendiamo 3, ne rimane uno, e da lì crescono gli altri, comunque, 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 cosa volevo dire? Ah sì, no, veramente, cosa volevo dire? Che mi sono dimenticato? Sì, a non fare episodi per un po' ci si dimentica, si perde il filo del discorso, e io sono molto, molto bravo a fare questo, faccio un taglio a questo punto, sai, mi dispiace, però, cioè, devo minare le valli, devo fare i buchi nella cazzo di terra, e devo aspettare le sugarcane che crescono, vaffanculo, oh, allora, il mio dubbio è stato risolto, in effetti crescono, ok, però ci mettono una vita, quindi, ho girato ancora, ne ho trovate altre, già che c'ero, ho fatto anche l'entrata della casina casuppola, che va dentro le tenebre di Quarried Stone, ne ho messo anche nel vetro, perché mi piaceva, mi ispirava, quindi, prendo un po' di carta qui, visto che sono sicuro che cresce sta merda, e sì, poi la farm, ovvio che parte, però, nel frammento, siamo un po' scarsi di carta, ma chi se ne frega, perché ora possiamo minare la inverosimile, io non mi ricordo più come si faceva, la, 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 come si chiamava, ah sì, la, la card, questa qui, la shape card, manca il pezzo di ingot e due di redstone, e possiamo fare la prima shape card, e poi, eh, ci manca, ovviamente, eh, altri quattro di uno, due, tre, quattro di redstone, due di iron, e poi i tool in diamante, quindi uno diamond piccazzo, e un shovel, che non mi ricordo mai come si dice in italiano, quindi possiamo fare questa, no, ci manca ancora uno di iron, e se magari fai il tasto sinistro, che prende le cose, oh, questa è la shape card, questo fa i buchi, eh, io personalmente non voglio che faccia i buchi, quindi voglio quella che fa i buchi, sì, ma, eh, riempie, cioè questa qui, ah, non è tipo un filling, non, 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 però, bando alle ciance, e, eh, torniamo sulla retta via. Allora, oltre alle cose che ho fatto, volevo fare anche, eh, la, 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 la stack, eh, non so parlare, i, i pannelli solari e la tinker, però fra le due scelgo di cominciare marginalmente la tinker, quindi facciamo le cose basilari della tinker, eh, sì, esatto, poi questo, e poi, mi sa, questo cos'è, il controller, esatto, e poi prendiamo tutti questi e facciamo così, e, eh, magari non facendo così, ma smistandoli qua a mente, sì, e qua no, facciamo 16 third break, che sono pochissimi, e io sono un pusillanime, perché, no, non basta mai le Groot, la Groot non basta mai. Servirebbe anche una Seared Tank, mi sa che non posso farla così, no, non mi ricordo, eh, niente, facciamo i pannelli solari. Allora, Mirror, questo è come si usava per fare i, allora, Solar Panel, qua li hanno nerfati in questa pacca, li hanno stranerfati, sono proprio scrausi, si fanno, vabbè, con un po' di, di questa Redstone, e del legno, regno, sì, il regno, il regno di, del mio gran cazzo, il legno ce l'ho, quindi potrei anche cominciare un attimo a fare questi cosi qui, Iron e il vetro, io il vetro ce l'ho, sì, circa, sì, sei, quindi posso anche fare un altro di questi pannellozzi, visto che servono, sono un po' importanti. Allova, allova, allova. Facciamo il più possibile di questi Solar Panel, visto che questi sono il Tier 1, il Tier 2, ne servono 8 con un pistone, quindi tanto, tanto, ma veramente tanto, tanto, tanto vetro. Quindi pensavo di mettere un po' di cobblestone a polverizzare, così, tipo, fa il vetro automaticamente. Allora, già che ci sono, deposito un attimo questo, questo legno, e anche le cose della... Cioè, potremmo già cominciare a mettere giù un mini prototipo di come sarà organizzata la, la smelter, eh. Anche se non so dove metterla, non so se voglio farla nel muro, o se voglio farla, tipo, qui, incastonata. Sì, dai, va bene, va bene qui, va bene qui. Ecco, e già a fare la base, ho finito tutto il cristo di coso che avevo, quindi. Serve uno Smeltery Drain, e un... Un... questo, messo sotto. Ok, poi la Fawcett. Ma hanno cambiato le skin? Sì, può essere la texture pack che ho messo io. Uno... Non è proprio questo che volevo, però... Un Controller e un Tank. E poi, chiudendo e facendo uno strato, ora, sto anche gesticolando, ma voi non vedete, si creerà la Smeltery. Ora, un attimo che... Pausa, bevo, perché non siete. Però, fotte sega. Ehm... Faccio un piccolo taglio, anzi no. Oh, cazzo che faccio un taglio. Vado a prendermi una cesta grande. La cesta grande, ehm... La faccio... Dovrei prendere questa. Ok, svuotarla qui dentro. Prenderlo, stessa necessario. Quindi il Builder, la Shape Card, ok, li ho qui. I due pannellozzi solari, che sono testissimi. E, eh... Rendere questa, eh... Allora, c'era il crafting da Copper, il upgrade del Iron Cesta. Copper to Silver, tipo. Ok, Copper to Iron. Quindi, sì. Sono 5 di Iron, uno di Copper e un po' di vetro. Vedi sempre il vetro, sempre lì. Che rompe il cazzo il vetro. Ok, diventa di Iron. Quindi diventa una cesta doppia. Simil doppia. Ok, potremmo anche farla di Gold, ma... Non ne vale la pena. Signori, possiamo provare. Cioè, non garantisco niente. Ah, bastarde, ora crescete, eh. Merde. Non garantisco assolutamente niente, però potremmo provarci. Allora, dove andiamo? Facciamolo qua. E qua... No, in realtà non dovrei metterlo qua. Dovrei metterlo intorno. Perché, sì. Insomma, ok. Lui si carica con pochissimi RF su Tic. E ci mettiamo, allora, la shape card. Per impostarla dobbiamo prenderla in mano. E, figata. Ci mettiamo sopra la cesta. Sopra al build, in modo che la... Tutta la roba che raccoglie la metta dentro quella cesta. Verso il vuoto. Prendiamo... Prima o a destra. E buttiamo via tutte queste cose inutili. Visto che non ci interessano. E facciamo un 10 per 10. Per 10, per 100. Ok. Mi sa molto... Mi sa tanto che quella in mezzo sia l'altezza. Quindi... Ciao. Vediamo se funziona. Ok. Non funziona più perché ovviamente è notte. Però possiamo fare tipo così. Ok. 600 in... Nell'altezza è sbagliata però, cara mia. Ok. Così 600 verso il basso. E facciamo così. No. Ok. Così. E in teoria serve anche una leva. Quindi. Ma facciamo un punto per ricordarci dov'è finito il nostro builder. E vabbè. Un giorno lo chancheremo ma non c'ho voglia. Andiamo a casa. Dormiamo. Così abbiamo il sole. Il potere del sole. Praise the sun. Ok. E... Perfetto. Eccoti. Quazd. E dovrebbe cominciare a ciucciare. E... Ce la facciamo. Oh cazzo. Non te l'ho visto giuro. Comunque. Cosa interessante. Il coso è sostenibile. Quindi... E muori crepa. Il... Come cazzo si dice. Ehm... Sì insomma. E' plausibile. Perché... Il... La... La potenza. L'energia che produce questi solar panel bastano per alimentare il builder. Quindi... No. Circa. Più o meno. Io lo lascio lavorare per tutta questa... Buonotte. Lo lascio andare di notte. Chi se ne frega. Tanto lui va. E' pseudo autonomo perché ha i solar panel di sto gran cazzo. E in teoria dovrebbe minare il mondo. In teoria. Io confido molto in te. Però è un piccolissimo traguardo. Una piccola soddisfazione che mi dà un sacco di gioia. Visto che sono riuscito a rendere autonomo... Pseudo. Un... Un builder. E soprattutto a fare un builder. In quanto? 3-4 puntate. Quindi... Sì. E' un piccolo passo verso il perdersi. Dove cazzo sono? Ok. Ho ritrovato la via. La boss marrita un attimo. Nella selva non tanto oscura. Questo è un piccolo traguardo. Che mi porterà a bastarde. Ora crescono quelle sugarcane di merda. Che mi porterà a grandi cose. Di cui... Una di queste è ovviamente... Un qualcosa di automatizzato. Che mi piace un sacco. E che spero piaccia anche a voi. Senza le api perché è una serie senza api. Da vibora anleashed. E' tutto. Io nel tempo in cui il builder smacciullerà e trivellerà... Il... Oh cazzo la bottiglia. E trivellerà le colline di mille pianeti. Io finirò la smelteri. E vabbè. Ragazzi. Si tratta di fare del grutto e di cuocerlo. Quindi non vi perderete assolutamente niente. Io ragazzi vi saluto. Noi ci rivediamo al prossimo episodio. Buonanotte. Che lo svapo sia con voi. No. L'han già usata. Bella per voi. No. Neanche. Devo inventarmi un mio saluto. Però... Ciao. In effetti come saluto fa cagare. No. 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 Grazie per la visione!